che apre per Udom il passaggio a lob per Diligro, spalla canestro contro Itherton, gira e tiro per Dein Diligro. In punta per Bryant, si adegua bene la difesa di Agrigento, Bryant ancora gioca a due con Diligro, arriva l'euto di Martin, ma Diligro ha preso molto bene posizioni. In attacco per la menzana, blocca ancora di Diligro, Bryant pallegge dietro la schiena, Bryant contro Sakagi palleggia, arresto tiro, canestro. Siciliano, Bryant già da parte opposta per Udom, che sale in chioda, la schiacciata. Sta per Bryant, Bryant il pick and roll con Diligro, il passo d'incrocio per Dein Diligro. Da Borsato, ancora per l'arrivo a rimorchio di Bryant, che mette a posto i piedi, pensa al tiro, poi scarica per Borsato dall'angolo. Infatti va da Itherton, adesso per i Vangelisti, che si palleggiano in piedi, recupera Ranuzzi, Ranuzzi prova ad arrivare fino in fondo, Ranuzzi fino a capolinea. Dalla menzana, Ranuzzi per Borsato, che fa saltare Martin, il tiro di Borsato, che va a segno. Scarica per Martin, con spazio per un tiro da tre punti, che va a corto, Udom rimbalza offensivo, Udom pensa al costo costo, Udom fino in fondo, Udom appoggia al tabellone. Bucarelli passando da Borsato, poi Udom, Udom che attacca e batte Itherton, Udom fino in fondo sbaglia, recupera lui stesso e va a punire il tapio vincente. In guardia, deve evitare molto Bryant, ma intanto bella conclusione, grande servizio di Bryant per Di Ligro. Diamo il tempo che ci separa dalla fine della primo tempo, Di Ligro contro Itherton, il semigangio, l'ondicesimo punto, perde in Di Ligro. Della menzana che torna in attacco adesso con Bryant, Bryant per Udom, il tiro da tre punti di Mattia Udom, che punisce la sua ex squadra. Tutti siamo in attacco invece per quanto riguarda Siena con Bryant, il duello con Martin, Bryant a fine in fondo, cerca e trova un canestro, presto che impossibile. Dare il track a Bryant. Quattro, Bryant cerca un'extra peste per Di Ligro, lo trova in qualche modo dalla spazzatura, Di Ligro in due tempi, trova il canestro. Questa ricetta ovviamente di Mattrice Senese, Borsato subito pallegge, resta il tiro, canestro per la menzana. Di Ligro, Bryant spinge la transizione andando da Ranuzzi, che batte Chiara Stella, Ranuzzi penetra, scarica per Borsato, piedi per terra, da tre punti la bomba di Stefano Borsato. Saccaggi che prova a spezzare il raddoppio, palla persa, Udom per Ranuzzi, uno contro zero, la schiacciata di Alex Ranuzzi. Di Agrigento, che si affida a Ditterton, spalla canestro contro Di Ligro, palla persa però per Scott Ditterton, recuperato la menzana, Bryant c'è dalla parte opposta, l'appoggia al tabellone. E il break di 7 a 0, in apertura, di terzo quarto per la menzana, controllato, Bryant adesso, Bryant per Di Ligro, la virata di Di Ligro, l'appoggia al tabellone e la canestro per Dane Di Ligro. Pulla e porta a meno 12, Agrigento consiene un attacco e ci prova da tre, con Ranuzzi e trova una grande bomba. Può essere un buon tesoretto. Fate 17 per la menzana perché Ranuzzi trova anche un canestro in allontanamento, quando mancano 105 secondi, alla fine del terzo quarto, Bucarelli palleggia, arresto, tiro, canestro per Bucarelli. Ranuzzi per Di Ligro contro Di Ligro, che è già gravato di quattro falli, Di Ligro giro e tiro con la palla, che si arrampica sulla ferro del palaestra. Rimessa già effettuata per Agrigento, Di Ligro consegnato per Avai, intercetta, Bryant che poi va a depositare in fondo alla retina. Ligoria molto bravo e si è trovato solo, non ha fatto per far canestro. Ranuzzi non può commettere fallo, su di lui Scott Hitterton, idee poco chiare, 5 secondi, se ne ha costruito poco, Borsato dovrà forzare, trova il canestro. Bryant fa saltare tutti gli avversari, ribalta per Udom, pedi per terra, da tre punti, la bomba di Mattia Udom. Canestro di fondamentale importanza negli equilibri del match, 81 a 75 e questa è la legge dell'ex.